Ciao ragazzi, sono qui da Motto Argento e come si dice, tanti desiderano esaudire i propri desideri, questo era un mio grande desiderio che desideravo avere e finalmente ci sono riuscito. Mi chiamo Cesare, sempre partito per i motori, macchine, moto, è sempre qualcosa che mi abbia sempre dato l'adrenalina, non ho più gli anni di una volta che era un po' più una testa matta comunque, la voglia di andare sia con le moto che con le macchine, come si dice, donne, motori, gioie e dolori, preferisco soffrire per le moto che per le donne, però lo desideravo e sono riuscito a realizzare questo sogno, speriamo in bene! Sicuramente Motto Argento, l'ho conosciuta per caso, era un po' che appunto volevo togliermi questo sfizio, di andare a guardare perché a caso anche altre moto, un'altra moto, non diciamo a livello di questa qua però un'altra moto d'epoca, un'altra Honda perché io sono impazzito per la Honda, anche le altre sono stupende ma per me la Honda è sempre rimasta nel cuore e passando davanti al negozio di Moto Argento, vedendo tutto ciò che c'era in vetrina, sono passato ed eccomi qua non pensavo di dover fare la spesa però alla fine mi son tolto l'ufficio allora diciamo che Moto Argento non l'ho mai conosciuta, l'ho conosciuta appunto passando per strada mi son fermato però poi dopo una volta entrato e diciamo conosciuto i proprietari, coloro che lavorano per questa azienda così e poi dopo appunto facendomi conoscere bene il negozio, come lavorano e come tengono alle moto il cliente sono arrivato poi alla fine a decidermi e di concludere questa vendita che penso proprio che sia stato un ottimo affare come ho già detto appunto le moto, le auto, i motori sono un battito accanito per le moto, per le macchine, per tutto ciò che ha sotto un motore appunto ho a casa un'altra onda, un'onda NSR 400 d'epoca ormai, vecchio due tempi delle vecchie piste della GP anche quella è una replica e diciamo che avevo intenzione appunto di avere qualcosa da non farla sentire troppo in solitudine e accompagnarla e penso che questo mezzo qua sia diciamo un'ottima compagna amica di quell'altra che gli faccia accompagnare nel box anche se ogni tanto ovviamente non solo da metterli in bacheca ma non si può pur essendo un amatore o se fosse anche un collezionista metterla lì e non riuscire perché la voglia, la forte e il desiderio di guidare in mezzo del genere è pressoché è sempre stato un desiderio quindi adesso diciamo che dovrei essere contento per un po' perché appunto non pensavo ripeto la voglia di prenderne una e poterla portare a casa era tanta alla fine ci siamo arrivati e questa è della Repsol, questa Fireblade è sempre stato un desiderio da anni un po' come anche l'altra moto e per mia fortuna sono riuscito ad arrivare ad avere anche questa sia come scelta di colui e dell'azienda che me l'ha venduta sia stata la cosa migliore da fare e penso che come sono soddisfatto io penso che siano felici anche i miei venditori perché la moto penso che rimanga per lungo tempo ancora nella zona e quindi vuoi dire che sia io io sì perché ovviamente avendola acquistata ma anche il mio venditore probabilmente la vedrà ancora per un bel po' di tempo intorno perché acquistata penso se non dovessero succedere particolari problemi di poterla tenere e mantenere il più a lungo possibile comunque mi fa piacere fare anche molta pubblicità o quello che posso pubblicità all'azienda di Moto Argento perché veramente sono stato trattato con i guanti e anche la professionalità dell'azienda della concessionaria è un qualcosa di veramente soddisfacente sia per la qualità del lavoro e dell'impegno che ci mettono i venditori i meccanici tutti coloro che seguono queste moto e questa azienda e da anche una sicurezza in più a colui che compra la moto perché veramente ho trovato il massimo della serietà e della professionalità di questa di questa azienda perché è stato anche io sono innamorato della Repsol quindi ho preso una Repsol perché era un mio sogno da tanto ma con tutte le moto che ci sono qua dentro penso che ognuno abbia di che svagarsi di vedere e magari di poter realizzare il sogno come sono riuscito a come si può dire a fare anche tu sì non pensavo perché sono ripeto sono entrato giusto per dare un'occhiata e alla fine tra serietà tra il coinvolgimento e tutto la moto me la sono portata a casa e non penso non penso di non essere anzi sono di più soddisfatto di più di quel che pensavo perché sono arrivato a quello che volevo e ci portiamo a casa questa gran bella moto che ripeto anni che desideravo e anche su questo punto qua sono riuscito a togliermi un sassolino dal dente perché è moto e azienda veramente stupendi e fantastici in tutto in tutto il lavoro in tutto l'impianto e sono convinto che chiunque verrà a conoscere a dare un'occhiata a questo negozio a questa azienda non potrà altro che essere soddisfatto di come verrà trattato e non è facile uscire da qua con le mani vuote perché veramente tra vasta scelta, professionalità, moto e tutto tutto ciò è un pacchetto indimenticabile e veramente soddisfacente per chiunque che qualunque persona venga qui a questa azienda a dare un'occhiata per magari togliersi appunto uno sfizio che tanti anni che magari non sanno come non sanno o sono in dubbio venite pure da moto argento perché persone veramente fantastiche e tutti e tutto lo staff veramente alla crema diciamo ciao a tutti e ci vediamo da moto argento ciao a tutti